Hai scoperto qualcosa di particolare vivendo in vigna? Sfalci l'erba in una luna sbagliata, non è finito neanche il vigneto, devi ricominciare. Sfalci l'erba nella luna giusta, ti tiene per un mese e mezzo. Noi dobbiamo fare i lavori dietro i ritmi della natura. La vendemia stessa viene fatta quando tutte le forze sono apicali, le potature quando tutte le forze sono basali. Quindi secondo te esiste un linguaggio della vita che tu hai cominciato a conoscere in questi anni? Oggigiorno tutti pensano che la biodinamica, il biologico è una ricetta da svolgere. Non è una ricetta, è un modo di pensare che ti impara a gestire la vina in un certo modo.